benvenuti in un nuovo video vi sto parlando dal drone in un nuovo video vi sto parlando dal drone un nuovo video vi sto parlando dal drone come vi sono sembrate le riprese e soprattutto con che drone le abbiamo registrate il drone in questione e in questa custodia custodia super comoda per il trasporto ma stiamo parlando del LeChain Cinecan 4K in confezione naturalmente troviamo il nostro Cinecan dopodiché troviamo una batteria eliche di ricambio con un po' di viti un cacciavite per smontare le eliche e una piccola brugola per smontare l'intero drone manuale delle istruzioni che ci permette di programmare al meglio il nostro drone sia su Betaflight sia sul nostro radiocomando se non siamo degli esperti in più troviamo anche il manuale della nostra Caddix Teaser V2 addentriamoci e scopriamo il drone drone che non è un Tiny Whoop ma bensì un Cine Whoop in quanto il peso è maggiore di un Tiny Whoop confrontiamolo subito con un drone da 3 pollici direi che c'è una bella differenza entrambi i droni sono considerati dei Cine Whoop ma la differenza oltre alle dimensioni è che qua dovremmo andare a montare una cam esterna un action cam mentre sul Cinecan abbiamo già una cam 4K integrata sul drone stesso che registrerà su una micro SD che andremo a inserire sul drone questo drone ce l'ho da parecchio tempo circa 6 mesi, 7 mesi l'ho portato addirittura in Cina l'ho fatto volare nei magazzini di Banggood nella Hall è stato fantastico l'ho portato in Corsica come avete appena visto nell'immagine iniziale di questo video e devo dire che si è sempre comportato bene vola bene anche con una leggera brezza non abbiamo scompensi e vibrazioni drone che vi dico già subito che supporta batterie 3S fino a 4S io l'ho solamente provato con le 3S ma già così ha grandi prestazioni grazie ai suoi motori da 7000 KV ci permettono di fare già delle evoluzioni dei flip e soprattutto di volare ad una certa velocità grazie anche alle eliche a 4 pale monta una F4 ovviamente dovremmo andare a fare una mini programmazione su Betaflight se non sapete come fare e non riuscite a capire bene il manuale delle istruzioni vi lascio il video dell'HAL5 dove andremo a creare un nuovo modello quindi basterà seguire quella guida e poi impostare anche gli stessi valori su Betaflight perché sarà davvero uguale la configurazione l'unica cosa che dovrete andare a cambiare ovviamente è la vostra ricevente ma basterà andare a mettere RX Support FR Sky di 16 oppure di 8 in base alla radio che avete se avete qualsiasi dubbio in fase di configurazione potete tranquillamente scrivermi su Instagram naturalmente seguitemi su Instagram e io vi risponderò appena possibile vi dirò i vari passaggi per quanto riguarda la ricevente potete scegliere FR Sky Fly Sky TBS oppure senza ricevente il mio consiglio se siete già un po' esperti nelle saldature nelle riceventi vi consiglio di prendere la versione senza ricevente poi andare a mettere una classica ricevente FR Sky oppure della radio che avete mentre se volete già un drone pronto BNF e addirittura il bind in questo modello si può fare da Betaflight semplicissimo c'è proprio la stringa da andare a inserire nel CLI potete scegliere la versione con la riceventi in questo caso ho scelto la versione FR Sky perché vi consiglio di metterla voi la ricevente perché avremo poco range circa 150-200 metri dipende un po' dagli ostacoli potrebbe andare bene per un drone di queste dimensioni ma dato che ha una VTX che può raggiungere fino ai 200 mW sarebbe sprecato arrivare solamente fino ai 150 metri di range perciò se prendete una ricevente e poi l'andate a montare poi potete volare anche a distanze ben più elevate parliamo della struttura di come è configurato il nostro cinecan ha un telaio in plastica che io ho già spaccato si spaccano molto facilmente i supporti delle batterie non è un problema perché una volta che si spacca potete andare a mettere un elastico da parte a parte e il gioco è fatto io ero già partito prevenuto perché un drone così piccolo sicuramente andremo negli spazi più stretti a farlo volare perché dovremmo filmare cose un pochino particolari e allora sono andato a acquistare un altro frame costa pochissimo 7 euro ci si impiega un attimo a cambiarlo e conviene sempre prenderne uno di scorta non si sa mai l'unico lato negativo di questo drone che mi sento di segnalare è il telaio ovviamente un po' fragile essendo in plastica e sicuramente andremo a danneggiarlo in qualche nostra caduta un'altra cosa che vi consiglio è di cambiare l'antenna della VTX ve la lascio qua sotto in descrizione vedrete sicuramente il range aumentare è una trasmissione più pulita sul vostro visore abbiamo capito che vola bene viaggia alla grande tempo di volo circa due minuti in base ovviamente al gas che diamo batterie da 300 mAh anche queste ve la lascio qua sotto in descrizione almeno 4-5 batterie bisogna averle per divertirsi passiamo all'ambito video acquistiamo un drone del genere con queste caratteristiche per realizzare sicuramente qualche video un po' diverso dal solito poiché grazie alle sue dimensioni ci permette di passare in angoli molto stretti e riprendere sicuramente situazioni particolari monta una caddx teaser v2 cam dotata di due camere una che manda il video direttamente sul nostro visore mentre l'altra cam registra in 4k o in diverse risoluzioni sulla micro sd posta sul retro del drone cam che si imposta direttamente dall'applicazione sul smartphone si scarica l'applicazione si accende il wifi con un tastino posto sul drone troviamo una pratica guida all'interno della confezione dove sarà spiegato tutto nei minimi dettagli si accende una luce verde una volta acceso il wifi andremo a collegarlo col nostro smartphone apriamo la nostra applicazione dedicata e potremo andare a settare tutti i diversi parametri io vi consiglio vivamente di registrare o in 2,7k 60 fps oppure in 1080 60 fps avremo una resa migliore rispetto al 4k che avrà un fob più stretto e farà in modo che avremo più vibrazioni un altro mio consiglio che ho notato dall'all5 che ha la stessa cam del cinecan è che se vogliamo un video top dovremmo andare anche a inserire il bilanciamento del bianco in modo tale che quando noi andremo a volare magari cambiamo l'esposizione cambiamo un po' il colore passiamo dal prato al colore del cielo lui mantenga lo stesso bilanciamento del bianco mentre per quanto riguarda la micro sd potete andare a inserire una micro sd fino a 64 giga la prima volta dovrete andare sull'applicazione e formattare la micro sd perché sennò non vi leggerà la micro sd inserite la micro sd formattata ogni volta che andremo ad accendere il nostro drone connettendo la lipo lui inizierà a registrare il video inoltre vi danno in confezione anche un filtro nd per ridurre maggiormente l'effetto gel magari vogliamo all'esterno con una forte luce beh andate ad applicare il filtro nd e vedrete l'immagine molto più smooth perché la cam per registrare con l'esposizione correttamente dovrà ridurre lo shutter speed e vedrete l'immagine migliorata mentre per volare all'interno vi consiglio di rimuovere il filtro nd cosa ci servirà per andare a volare semplicissimo il drone ovviamente un radiocomando io vi consiglio subito di iniziare con una taranix qx7 i comandi saranno migliori che radio di qualità inferiori come può essere una flysky io ho iniziato con la flysky però se avessi iniziato subito con una qx7 avrei risparmiato soldi e soprattutto mi sarei potuto allenare con il simulatore basterà andare a connettere un semplice cavo usb alla radio e siamo già pronti per volare col nostro simulatore inoltre ci servirà un visore vi consiglio un ev800 per iniziare va più che bene e un caricabatterie vi consiglio l'imax b6 classico caricabatterie in più ci servirà un adattatore del genere per andare a connettere la nostra batteria col connettore xt30 al caricabatterie che ha un xt60 questo l'ho creato io ma lo vendono già fatto vi lascio tutto il materiale qui sotto in descrizione con tutte le varie spiegazioni nel dettaglio conclusioni un drone di questa tipologia è sicuramente comodo per riprendere e soprattutto per imparare a volare quando abbiamo imparato a volare con un tiny whoop con un drone di questo tipo ovvero molto piccolo in acro siamo pronti per pilotare qualsiasi altro tipo di drone perché più avremo un drone grosso e più sarà stabile e gestibile ovviamente più sarà grosso più avrà potenza però con un minimo di pratica vedrete che sarete in grado di pilotare qualsiasi tipo di drone fpd in acro se volete un drone un pochino più economico e non volete registrare il video non vi servirà una cam in 4k già solo la cam su questo drone costa oltre 80 euro per cui vi consiglio magari un tiny hawk di emax super resistente e adatto ad imparare addirittura emax vende un kit rtf cosa significa significa che troveremo già tutto insieme ovvero visore drone e radiocomando vi lascio un video dedicato che avevo fatto mentre se avete già altri droni perciò avete radio visore e volete solamente avere un drone di questa tipologia per allenarvi un po' in casa per divertirvi magari uscite una finestra entrate nell'altra finestra vi lascio qualche tiny whoop in descrizione abbastanza performante magari da andare ad usare addirittura con batterie 2S perché solitamente un tiny whoop si usa con una batteria 1S spero che questo video ti sia piaciuto iscriviti al canale se così fosse lascia un bel commento un bel mi piace per supportarlo e noi ci vediamo presto in un prossimo video mi raccomando per qualsiasi informazione richiesta vi aspetto su Instagram dove potete anche scoprire cosa combino in tempo reale e su Telegram per le migliori offerte di droni FPV componentistica e molto altro ciao ciao